carissimi bentrovati sul canale spot calcio 11 e benvenuti a questo video sicuramente la giornata di campionato ci ha detto di quanto l'inter sia sempre più vicino al suo scudetto infatti nelle ultime dieci gare bastano sei vittorie un pareggio per vincere il tanto coniato scudetto basta vedere la classifica e vedere come l'inter è 68 l'unione a 60 l'atalanta 58 e poi seguono juve napoli a 56 punti chiaramente quindi sarà davvero importante il prossimo scontro che è questo punto uno scontro diretto per la champions napoli juventus e per questo abbiamo delle novità in quanto sembrerebbe che pirlo abbia deciso di un reintegro nella rosa per mckennie arthur e dibala quindi punizione finita e sembrerebbe che in questo modo si va ad archiviare la brutta storia del festino a casa dell'americano detto questo vi invito a iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati fate datemi una mano fate crescere questo canale e per i primi 1000 iscritti ci sarà una bella sorpresa grazie a tutti e a presto